È il più atteso, internazionale, ricco e affollato appuntamento con il design. È un crocevia di industria, produzione, creatività, mercato. È energia allo stato puro. È progetto in tutte le sue forme. Racconta l'uomo e l'abitare, come siamo e quali trasformazioni vivremo. È filiera, incontri, comunità, grandi aziende e alto artigianato. È sperimentazione, coraggio, innovazione, da toccare con mano. È a Milano e batte ogni record. È il salone del mobile. Il successo dell'eccellenza. Oltre 357.000 i visitatori nel 2014. Più 10% gli operatori del settore rispetto all'edizione 2013. Un primato nel mondo. 1993 espositori presenti in fiera. Oltre 200.000 metri quadrati la superficie espositiva. 53 edizioni. Un salone sempre più internazionale. Quasi il 30% le aziende straniere. Tre tipologie stilistiche. Classico, moderno e design. Più di 1.400 espositori per il salone internazionale del mobile e del complemento d'arredo. 152.300 metri quadrati da percorrere d'un fiato. Tra stili, tendenze e nuovi prodotti. Grande successo nel 2014 anche per le biennali Eurocucina, con l'evento collaterale FTK, Technology for the Kitchen, e il salone internazionale del bagno. Tutte le novità per cucine di alta qualità, belle, ben fatte e funzionali. Per chi cerca il meglio della tecnologia, la creatività e un luogo dove star bene insieme, ma anche le anteprime dal mondo del bagno. Con 18.000 metri quadrati, cresce del 20% lo spazio espositivo dedicato al benessere e alla cura di sé. 650 e-designer provenienti da 32 paesi e 16 scuole per la diciassettesima edizione del Salone Satellite. Accanto alle giovani proposte Under 35, premiate con il Salone Satellite Award, quattro botteghe artigiane, tessile, ceramica, pelle e digitale, dove i maestri hanno mostrato ai visitatori come nascono i prodotti fatti a mano. Cultura del progetto e cultura d'impresa, anche con le mostre che ogni anno il Salone promuove in fiera. Dopo il successo di Jean Nouvel con Progetto Ufficio da Abitare, che nel 2013 aveva proposto scenari lavorativi unici e singolari, quest'anno il Salone ha portato in fiera otto testimonial d'eccezione. Cigaruban, Mario Bellini, David Chipperfield, Massimiliano e Doriana Fuxas, Zaha Hadid, Marcio Kogan, Daniel Libeskind e Studio Mumbai. I protagonisti della mostra Dove vivono gli architetti, a cura di Francesca Molteni e Davide Pizzigoni. Gli otto architetti di fama mondiale hanno aperto le porte delle loro case raccontate con un'installazione multimediale di quasi 2000 metri quadrati, per esplorare la cultura dell'abitare a tutte le latitudini. E per rafforzare il ruolo internazionale, anche in vista di Expo 2015, il Salone del Mobile 2014 ha inaugurato il progetto Accoglienza, in collaborazione con il Comune di Milano e le scuole di design del territorio. Cento studenti hanno accolto il pubblico in arrivo in città per dare informazioni e assistenza sulla fiera, la mobilità e le iniziative milanesi. Il Salone dei Record e il meglio dell'Italia e del mondo vi aspettano a Milano per la 54esima edizione, con le biennali Salone Ufficio ed Euroluce dal 14 al 19 aprile, pochi giorni prima dell'inaugurazione di Expo 2015. Grazie per la visione!